Grande protagonista di questo Eikma Honda anche con gli scooter, oltre all'SH il Forza arriva nella versione di 300 cm3, adotta lo stesso propulsore del più noto SH, il monocilindrico 4 valvole di 278 cm3, capace di erogare quasi 30 CV. Quindi ottime prestazioni, prestazioni che crescono rispetto alla precedente versione di 250 cm3, ma soprattutto consumi record, siamo ben oltre i 30 km con un litro dichiarati. Ma non basta, il Forza ha anche un vano sottocasco capace di ospitare ben due integrali, grigio, bianco e nero, sarà disponibile dalla prossima primavera. Grazie 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 Grazie